E' lo sfiato! 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 Fermate! E' lo sfiato! Fermati un po'! Porco Dio! E' lo sfiato! E' lo sfiato! Deute! E' lo sfiato! No, fammi partire! Fammi partire! E' lo sfiato! Ci sono molti piloti con queste qualità, ma per essere un campione spesso non bastano. Bisogna avere qualcosa in più. Perché quando ti spingi fino al limite, quando un solo errore può cambiare tutto, c'è una sola cosa che può fare realmente la differenza. Il controllo. Questa è la tua sfida. Questo è VRC3. E' amici di YouTube, amici di Fruitlab, bentornati con un nuovissimo video di VRC3 World Rally Championship della FIA. Siamo sempre nella modalità Road to Glory. Abbiamo guadagnato 305 stelline per arrivare ad affrontare le sfide finali. Ce ne sono 355, da come potete vedere il raggiungimento della cosa. Ok, allora, in questo video vedremo come primo video, come prima partita, qui, questo bellissimo evento Rally a Monte Carlo. Difficoltà 4. Ok, io per il momento vi saluto qui e ci andiamo a gustare la partita. Questo qui di questo bellissimo rally. Ci sentiamo poi per i saluti e i commenti finali. Ciao a dopo! Ciao a tutti! 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 Tornante sinistra, barri e bus. Tornante 5, 40, sinistra 3. Tornante 3 e sinistra 3, muro all'esterno. Tornante 5, 40, sinistra 3. Tornante 5, 40, sinistra 3. Apri, 40, destra 4 e sinistra 3. Poi, destra 4 e sinistra 5. Tornante sinistra. Destra 3, apri. Sinistra 3 e tornante destra. 40, destra 3 e sinistra 4. 40, sinistra 5. 40, destra 5 e sinistra 5. Poi, destra 4 e sinistra 3. Apri, 100. Tornante sinistra, freno a mano. 100, apri. Tornante destra, freno a mano. 40, sinistra 6, lunga e destra 5. Barriera all'interno. Destra 4, barriera all'interno. Poi, sinistra 5, diventa sinistra 3. Chiude. 40, tornante sinistra. Tornante destra. Destra 5, lunga. Sinistra 4, in destra 5. Sinistra 2, sotto il ponte, muro all'interno. 80. La siamo messa brutta. Destra 3, lunga. Sinistra 5, in destra 4. Poi, sinistra 5, in destra 6. E sinistra 4, 100. Apri, attenzione. Tornante sinistra, non tagliare. Destra 4, poco staccionata. Diventa destra 3, lunga. Sinistra 4, dopo palo, destra 2. 60, sinistra 2. Taglia, palo all'esterno. Destra 4. 40, sinistra 3, in destra 3. Poi, tornante sinistra. Barriera all'interno. Tornante destra, al barriere all'interno. 60, destra 3, in tornante sinistra. Destra 2, lunga. 60, destra 3, in tornante sinistra. Tornante destra, 40, poi tornante sinistra. Destra 4, poi sinistra 4. E tornante destra. 40, tornante sinistra. Destra 5, in sinistra 5. Buongiorno. Duolete a guardo. O killed it. No to do. 60, ugualdad betrotheti. S***, not to. S*** without Hoak mudar my way. Tornante! Grazie a tutti. 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 40. Grazie a tutti. 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 Ciao. Ci spazzo. Grazie a tutti. Versiostiamo sullywood. Grazie a tutti. Vi ricordo sempre di mettere un like condividere il video iscrivvenixe al mio canale youtube trovate il link in descrizione per quanto riguarda giochi scontati su instant gaming e niente poi c'è il mio link è paypal per chi mi vuole offrire un caffettino ciao a tutti arrivederci al prossimo video amici di youtube se volete supportare il mio canale con delle piccole donazioni potete trovare il mio link paypal nella descrizione del mio canale e potete trovare anche i link di collegamento al mio fruit lab account grazie